Buongiorno a tutti e benvenuti a questa rassegna stampa, la rassegna stampa di venerdì 8 maggio 2015. Siamo in diretta alle 7.30 e in replica alle 9 e alle 13.30 ma poi abbiamo repliche anche dalle 7.30 alle 8.30 ogni 15 minuti. Allora cominciamo dal Santo del Giorno, vediamo subito. Oggi è San Desiderato, Vescovo, il sole è sorto alle 5.50 e tramonterà alle 20.19. Uno spettacolo di fotografia, una giornata bellissima, un sole che splende, un cielo terzo che fanno da apripista questa giornata che speriamo sia per tutti noi molto bella. Oggi alle 7.30 abbiamo già una temperatura abbastanza confortevole perché sono 15 gradi e 6. Il tempo, che tempo farà per oggi? Vediamolo subito. Oggi avremo un cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente sui rilievi durante le ore più calde della giornata. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. Per la giornata di domani, 9 maggio, cielo sereno poco nuvoloso, poi addensamenti più consistenti nell'entroterra, vedete, nell'urbinate e più sotto sui sibillini. Precipitazioni infatti saranno possibili con locali rovesci, soprattutto il pomeriggio. Temperature e lieve diminuzione. Vediamo la giornata di domenica, domenica 10 maggio che già potrebbe essere una giornata estiva dove poter andare a prendere la prima tintarella di sole. Allora, irregolarmente nuvoloso all'inizio della giornata, poi la copertura nuvolosa si attenuerà, lascerà spazio dunque nel corso della mattinata al sole, al cielo sereno nel pomeriggio. Non si escludono però occasionali e sporadici fenomeni nottetempo e al primo mattino. Le temperature sono in diminuzione. Per la tendenza dei prossimi giorni, la prima parte della prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile, con temperature in graduale aumento. Allora, cominciamo a leggere i giornali. Il messaggero, la pagina di Fano, si torna a parlare di quell'uomo, quell'albanese che è stato arrestato l'anno scorso e che ha avuto 8 anni di carcere per aver abusato di 8 ragazzini. Ebbene, parla l'avvocato Chiocci, legale di questo albanese condannato e che ora si trova in carcere, non è un orco da ingabbiare, ma un malato che va curato, dice l'avvocato Guidumberto Chiocci, che è il legale di Asa Ulian, il quarantenne albanese condannato a 8 anni di carcere per aver abusato di 8 ragazzini, dopo averli e ubriacati. Sconcerto in città, per quanto emerso dall'indagine della polizia, l'uomo si muoveva tra il Poderino e il Flaminio, Fano 2 e la località di Centinarola. Poi, sempre sulla pagina di Fano del messaggero, si parla dell'atto vandalico e danni dello studio legale della Morani. È stata imbrattata la targa del suo studio legale, vedremo dopo anche la fotografia, mentre si parla anche della differenziata, la raccolta differenziata, bene, dice, ma per gli sconti, dice la Presidente, per gli sconti in bolletta deciderà il Comune. Chirurgia, Marche Nord prima in Regione, il primario Zingaretti ha presentato l'iniziativa dedicata alla Brest Unit e poi c'è questo monumento, un appuntamento di oggi, un monumento ai migranti, ai migranti morti, il cardinale, ci sarà il cardinale di Lampedusa, Francesco Montenegro, che sarà a Fano e resterà a Fano per due giorni e oggi inaugurerà il monumento in memoria dei migranti morti nel mare Mediterraneo alle 18 a Cartoceto. L'opera sarà scoperta da due giovani di fede diversa, un cattolico e un musulmano, seguirà poi la cerimonia religiosa. Andiamo a leggere le altre notizie sul messaggero. Il chirurgo di Lucia Annibali curare il corpo per guarire l'anima. Edoardo Caleffi sarà nel pomeriggio a Palazzo Antaldi a Pesaro, con lui anche l'avvocatessa deturbata dall'acido. E ancora, sempre dal messaggero, la politica spacca Ceriscioli. Ora è duello vero. I due candidati monopolizzano l'incontro a Confindustria. L'ex sindaco dice basta con gli annunci, serve la politica del fare. Il governatore risponde io voglio produrre reddito, tu solo consumarlo. Meno fisco, capitale umano e mini bond per finanziare le idee. Scivola e cade nel fiume Foglia. Pescatore salvato dai vigili del fuoco, rimasto aggrappato ad un ormeggio con una spalla lussata finché non sono giunti i soccorsi. Non è chiaro se si è scivolato nel passaggio dalla barca alla passerella o viceversa. Le conseguenze, quelle sì, sono state invece maledettamente chiare e drammatiche perché l'uomo è finito appeso morto in un fiume, il Foglia profondo e limaccioso e per salvarsi con una spalla lussata nella caduta è dovuto rimanere appeso ad uno pneumatico che fungeva da ormeggio gridando aiuto con tutto il fiato che aveva in corpo e pregando che qualcuno sentisse le sue disperate implorazioni. Strade dissestate e cantieri aperti, così l'Expo fa paura. Dalla data di Urbino pronta solo il 20 maggio ma senza marciopiede allo stato in cui versa la viabilità che potrebbe scoraggiare i turisti. Buche, lavoro in corso e semafori spaventano le condizioni dei collegamenti con Roma, l'allarme del Presidente della Camera di Commercio Drudi. La viabilità sulle rotaie, torna Italo in estate ma solo fino a Rimini per Pesaro nemmeno un bus navetta. Italo torna il primo luglio ma solo fino a Rimini, nessun riferimento l'ipotesi di collegare Pesaro alla riviera romagnola con delle navette. Pesaro è ancora dimenticate, la colpa è della provincia e della regione, inefficienti sulla politica dei trasporti, attacca Roberto Zaffini. Adesso andiamo sull'altra pagina, sul Corriere Adriatico. Cominciamo dalla pagina di Fossombrone, la sanità in primo piano anche oggi, ospedale ricorso contro il Tari. Il Vice Sindaco Chiarabilli dice che per noi la regione ha agito in eccesso di potere. Quella di Fano invece multe, il Comune incassa quasi un milione di euro, ecco come verrà spesa la metà del tesoretto, segnaletiche, strisce bedonali e incentivi per i vigili urbani. Inoltre 114 mila euro saranno invece destinate all'assunzione di agenti municipali stagionali e grazie alle telecamere per il 2015 si punta ad un incasso superiore. Poi più sopra, più in alto, incentivare l'uso della bicicletta con poca spesa. La ricetta dell'Associazione Forbici che dice sulla ciclabile Fanofenile non ci hanno nemmeno interpellati, eppure conosciamo bene la zona. Nicola Marra inaugura oggi la sede dei grillini, oggi il taglio del nastro in via Nolfi 166 alle 4 e mezzo del pomeriggio. Abusi, la minaccia del web anche nella vicenda dei ragazzini violentati. Facebook è stato il mezzo utilizzato per adescarli. Genitori attenti, la trappola scatta con il cellulare. Generalmente i ragazzi intrattengono conversazioni con sconosciuti dal cellulare, spiega Linda Renzoni. Quindi si può evitare di dotarli di un apparecchio che abbia accesso alla rete. Poi si può venire a patti sull'utilizzo, come un tempo si faceva con l'ora per rientrare a casa. Insomma, il metodo migliore è anche quello di collocare gli apparecchi in punti della casa facilmente controllabili. I genitori non possono esimersi dallo stabilire un rapporto che coniughi indipendenza e fiducia, soprattutto aggiungo io, fiducia, tenendo sempre presente che i minori non hanno ancora la giusta maturità emotiva per affrontare certe situazioni. Allora, dicevamo della targa, la targa che è stata imbrattata, i vandali nello studio legale di Alessia Morani. Ecco la fotografia, vedete, hanno cancellato praticamente il suo nome contro la mia persona. Escalation di intimidazioni, dice l'onorevole Morani. Allora, andiamo sulla pagina invece adesso della Fanevalle del Cesano del Corriere Adriatico. Via al recupero dell'ex scuola, un investimento di 150 mila euro a Pergola per la valorizzazione di Monterolo e sempre da Pergola, sindaco infuriato perché insomma i bronzi sono rimasti fuori da Expo, un'incredibile follia. Pergola unita, un'occasione persa per Ignavia. Poi sotto da Marotta invece il gap culturale delle piccole imprese, a Marotta tappa del Touring Digitali, banda larghe fibre ottiche, il divario non è tecnico. Ancora da Senigallia, furto di attrezzi di materiale per montare le tende, studente trovato sull'autobus senza biglietto da un nome fasullo denunciato dalla polizia. Poi Sartini, sicuro, parliamo di elezioni, cambiare si può e si deve. Apriamo adesso invece la pagina del resto del Carlino. Guardate questo capriolo a spasso nell'area del Benelli, è stato fotografato da Stefano Soci, il giornale questa mattina poi ha pubblicato la foto. Un capriolo a spasso allo stadio Benelli, catturato dal CRAS con una rete, si era infilato addirittura negli spogliatoi. Ok, e questa è la pagina di Pesaro del resto del carino. Quella di Fano invece, bebi teppisti al pincio con le armi negli zaini, responsabili di atti vandalici trovati dalla polizia con pistole finte e coltelli veri. E ancora, spacca, battezza, Pagnoni, Forza Italia, il governatore uscente con il candidato, la gaff pubblico invitato ma era, scusate, un incontro privato. Il direttivo del partito ha preso le distanze dall'alleanza messa a punto con Marche 2020 e Alleanza Popolare. Il segretario, mentre per quanto riguarda il partito socialista, il segretario Caporelli dice no, di di Fano sono rimasti irrisolti. Cosa possiamo dire o ricordare noi fanesi dei dieci anni e più di governo in regione di Gian Mario Spacca? Niente o poco più. Queste sono le parole del vice segretario regionale del PSI, Paolo Caporelli. Poi, 5 Stelle a Coto, in spregio agli elettori vuole la regione per soldi. Continua l'attacco dei 5 Stelle a Minardi, Minardi chiede codice etico, è il primo ad infrangerlo. Tumore al seno, Fano è all'avanguardia, tre chirurghi generali ed uno plastico, collaborazione con Pesaro. Poi c'è una convention in programma, oltre 100 medici e infermieri ha il corso organizzato sulla patologia mammaria. Ancora la tragedia di Vito, un bambino morto a soli due anni a Monte Calvo. Il piccolo soffriva di malformazioni congenite, il ricordo del parroco. Vito non ce l'ha fatta, ha perso l'ultima battaglia di una vita brevissima e difficile, durata solo due anni. Il piccolo cuore si è arrestato ieri, mentre un medico del 118 di Montecchio tentava il miracolo di riportarlo alla vita. E chiudiamo con l'ultima pagina del resto del Carlino. Medici di famiglia in rivolta, stato di agitazione per alcune giornate in tutto il mese di maggio. Sono medici di famiglia che sono pronti allo sciopero, alla base dell'avvertenza che determinerà la chiusura di buona parte degli studi. Martedì 19 maggio c'è lo stato delle trattative per il rinnovo della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. È tutto, grazie per aver seguito Occhio ai giornali. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.